Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video prossimo canale oggi siamo qua con un ospite speciale che vi lascio anche il canale dell'ospite qui sotto in description partiamo subito Ciao a tutti io sono su Clash mi chiamo GXPapainix mi ha un canale mi chiamo Nido774Candy mi raccomando seguitemi lasciate like ai miei video e niente possiamo iniziare ok andiamo con la prima amica e facciamo come prima amica una battaglia normale ok accetto volentieri ok allora tutto bene non sono appena crashato tutto bene ragazzi non è successo niente per favore puoi non mettere niente ok scusate ragazzi del allora crasho molto spesso mettiamola così scusate ritorno subito raga ok se non vedete niente ecco sono ritornato ok io metto questo poi hashtag Nido774Candy buono super buggato buono 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 buonissimo dai tanti danni posso chiedere una cosa come bloccano questo oh mio dio ecco ecco no non ci voleva buono 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 tu hai spiegato tante lì bah buono 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 dai dai fai danno ok va bene di good danno ok questa arriva qua no problem perché blocca così ahia sono messo un po' male 2 gg a lui che sta giocando molto meglio stiamo in leggero vantaggio di poco però è molto equilibra da come partita scusate ragazzi se io sto zitto però sono un po' in silenzio tra yarding ok grana rossa allora io aspetto lui ok era quello che pensavo infatti ok mettiamo questo ok mettiamo questo sì vabbè è certo che se gli sghieri facessero il suo lavoro sarebbe ottimo io vado così invece da questa parte molto molto good sto attacco perché l'alcere magico va fuori godo con riccio dai che attacca forse due hit no due hit no tanto questa non riesce buono buonissimo attenzione a qui però ahia ho 29 secondi per fare una torre no faccio così dai 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 attacca sì no ok faccio da tronco che in teoria vuole farmi fare a torre no 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 sì no come buona facciamo così ah lei attacca però ah io provo una roba di questo tipo mettiamo qua sbagliata la bongolfiera dai bongo la bloccata ok abbiamo vinto abbiamo vinto perché allora buono buono complimenti per la partita è stata particolarmente una buonissima un po difficile ok allora andiamo adesso di vediamo no allora andiamo di vediamo un po andiamo di sfida strategica che uno deve scegliere le carte all'avversario ok scegli le carte all'avversario sì ok ok io prendo quello tipo tacci down cioè nel senso allora eh aspettiamo vabbè io sto scegliendo signori scusate ci ho lasciato un'altra volta tutto a posto sto ritornando io oh mio dio c'ero presto le vostre carte ok io vado di questo sì ragazzi scusate però ah in attesa dell'avversario arrivo 81% ci sono cose ah te l'ho scelto in automatico mi sa no 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 non mi so scendere però fa delle buone scelte cavolo mi ha fatto delle buone scelte ok quindi buono ah io al mio mozzo mi sto un botto è bruttissimo allora ok io vado subito dalla prima mossa infallibile dai 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 sì vabbè dai ma ma tu sei buggato dai è impossibile ok andiamo così anche di una palla di neve molto molto good eh però lui attacca però qualche danno c'è pensavo meglio però vabbè sì però amico guarda cosa ti metto ora aia no dai però sei buggato no non ci credo sei no vabbè tirami il ghito l'ugio a lui ci ho guadagnato no ci ho solo perso ci ho guadagnato decisamente lui io ho i maglialini che carini i maglialini sono fortissimi allora io non so di cosa andare io vado così però lui metterà sicuramente gli scheletri ah infatti ok questo va giù buono perché il gigante attacca e non poco va bene va bene va bene senz'altro meglio del gigante elettrico ok no dai 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 difendi dai non potevo fare altrimenti vabbè lui mi sa che ha vinto su partita secondo me ho sbagliato a scegliere delle carte allora tipo il gigante non devo scegliere ho il pezzo c'è da dire che tu hai scelto il gigante più quella roba che il gigante che battuta tu hai scelto il gigante più quella roba tipo elettrica si che è sempre un gigante elettrico però vado così spero dai dai pecca però non riesco proprio a giocare perché lui mette quella strega maledetta una roba del genere ragazzi ricordo che le carte sono state randomiche quindi le mie non le ho manco scelte però a quanto pare è fortuna quindi te la scelte anche bene ok questo gli faccio la torna io rischi a giocare come il Bernard no non rischi a tanto la torre lì te la faccio buono questi danni non sono male si però dopo di di sti robi mamma mia ma cosa sai no ho sbagliato le scelte la giocata non dovevo l'hai scelta un po' troppo mi sa vabbè 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 era impossibile c'è no niente è andata mannaggia ha vinto lui gg bella partita ho vinto prima io nella battaglia sei stato sei stato diciamo un po' ho sbagliato le scelte hai sbagliato troppo vabbè vabbè altra hashtag nido774 candido crashing perché sono abbracciata un'altra volta io non so eh sì vi giuro non so cosa vi succede oggi ma io sono abbracciato in tutti i sensi allora faccio un altro amichevole facciamo non lo so guarda io farei touchdown bella touchdown io vinco sempre se non crash ovviamente perché se crash è un po' difficile vincere però si ci prova allora ragazzi dovete sapere che allora c'è un gamer ci siamo allenati molto non ho scelto caso ho sbagliato ah vabbè qua non è colpa del gioco questa volta ma più o meno questo potrebbe essere interessante le mie carte fanno veramente pena do andrei di questo dai spero che almeno quelle che mi hai scelto tu saranno le 100 vediamo dai c'è il cosa con la zappa lo faccio fuori non è ancora partito da me ma tanto io non metto niente no sono crashato un'altra volta vabbè aspettiamo un po' che mi metto aspettate aspettate ok intanto non lo so parliamo di calcio con cosa intratteniamo signori sto entrando dobbiamo andare su clash royale non preoccupateci sono aia la memoria mi sta finendo vabbè facciamo quest'altro amichevole bomb cioè fatto bene poi finisce il video poi faremo l'auto molto bello ecco ci sono lui va subito con una carta che non ho visto ma vabbè oh mio dio questo va già forte aia oh difendo qua vado così eh vabbè non è andato male dai non ci credo no lo scheletrino davvero io mi aspettavo l'accessorio è barbara ma no c'è 1 a 0 e l'abbè vero fatta comunque barbara ok questa volta vado subito abbastanza rettivo scherzo difendo lui arriva subito intanto se ti metto questa roba tu muori mastino a me l'ha scelto solo il mastino l'ho scelto lo so ok questo va giù ok ecco quella carta spero che becca la tesla ok becca la tesla però non è senso ripartire con una carta quindi vado così proviamo a difenderlo no 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 andate niente va a salvarlo purtroppo non stiamo non ci non ci sta girando bene le partite vabbè magari ce l'ho ancora l'appacco su per me no è il problema in queste sfide non so perché vado malissimo vado con lei vabbè ho già perso 3-0 grande gioco da parte sua devo dire che vabbè raga quelle che mi hai messo tu erano veramente belle eh niente raga ti facevano veramente schifo io vi saluto vi ringrazio di aver visto questo video akuna matata ciao ragazzi come sempre io sono crashata un'altra volta ciao ciao